Allora, il trucco è mettere la pellicola attaccata al vetro. Dall'esterno o dall'interno? Da fuori, proviamo da fuori, più facile. Passi. Ma si farà tutti i pagi del cazzo? Ma il truccetto? Il truccetto è dentro. Ma la rimanda sopra. Di sopra fa quale piccolino. Dopo danno l'olore nel kit. I*****. La scatola diretta. E' un piccino. Ma c'è quello piccinino. C'è quello piccinino. E' un piccino. E' un piccino. Ma è un piccino. La scatola diretta. Qu'è un piccino? Ma è un piccino. Grazie a tutti. 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 Quindi abbiamo ristaccato tutto. Abbiamo provato a mettere la pellicola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.